Ci troviamo oggi al cortile Platamone di Catania dove si è svolto questo interessante convegno ricordando il 21 settembre 1990 l'uccisione del grande giudice Rosario Livatino, un uomo veramente che ha lasciato una grandissima luce su tutti, una figura eccezionale di magistrato che veramente sapeva compiere il suo dovere di grande umanità. Ho qui con me due grandi magistrati che sono un punto di riferimento anche per noi, per la nostra città di Catania che hanno partecipato a questo evento organizzato dall'Associazione Giustizia e Pace in onore di Livatino. Qui con me ho il magistrato Sebastiano Mignemi, presidente della prima sezione della Corte Assisi di Catania. Bene, allora lei l'ha conosciuto e quindi ha potuto dire tanto sul giudice Livatino. Sì, ho portato la mia esperienza, la conoscenza diretta e di quelle che furono i primi sei mesi di indagini perché mi occupai delle indagini, oltre a conoscerlo, poi mi occupai delle indagini relative al suo omicidio. E' un collega esemplare che si approcciava alla professione in maniera scrupolosa, attenta, sempre meditando le scelte che andava a compiere e accompagnando tutto questo da un credo religioso di fede cristiana che non gli faceva mai perdere di vista che comunque il male è una cosa ma l'uomo che commette un reato è comunque un uomo da trattare, da seguire, da riprendere. Qualche particolare, qualche piccolo aneddoto, visto che lei l'ha conosciuto personalmente, lo diamo anche per i giovani che non l'hanno mai conosciuto. Guardi, un aneddoto, voglio ricordare questa cosa che mi colpì tantissimo all'epoca, io facevo il magistrato da appena un anno, andammo subito a fare una perquisizione nella sua abitazione, una perquisizione dei rilievi per vedere se c'erano degli iscritti, aveva appuntato qualcosa che trovavamo tanto nelle sue agente, ma è poi anche nel suo ufficio, nella stanza in ufficio. Quello che mi colpì è che trovai in tutte e due i posti uguali, le stesse edizioni, una carta costituzionale, i codici, i quattro codici e il Vangelo. E le stesse quattro cose trovai ben messe in ordine, nello stesso modo, sulla sua scrivania in ufficio. Questa cosa mi colpì molto perché era veramente inusuale. E posso raccontare questo come aneddoto particolare. Sono bellissimi i messaggi che possiamo dare di una magistratura che può guardare ancora fiduciosa e superare i bisogninismi, le correnti politiche. Una magistratura sul modello di Rosario Olivatino. Sono qui anche con questa serata, con il presidente del CIP di Catania, il dottor Nunzio San Pietro, che anche lui è una persona che dà esempio della sua trasparenza e proprio punta tantissimo e contro, diciamo, le raccomandazioni, ma sulla meritocrazia. Credo che questo trendennale dalla morte di Olivatino ci serva per rilanciare la sua figura come un modello di magistrato a cui tutti ci dovremmo ispirare. Lui era molto bravo, sia tecnicamente sia umanamente. Abbiamo sentito dal presidente Mignemi che anche i colleghi più anziani avevano grande rispetto di lui e non è una cosa usuale questa. Per cui in un momento di così grave caduta di stile, almeno, dell'attuale magistratura, credo che ispirarsi a lui costituisca una via da seguire immediatamente. Allora, un messaggio anche che lei sta tanto vicino ai giovani, ma spesso nelle scuole. Un messaggio che diamo? Cercate di acquisire tutti gli elementi per diventare meritoriamente nominati a posti importanti. Abbandonate le raccomandazioni e affidatevi solo alle vostre capacità. Se sono buone avrete successo, se non sono buone avrete successo in altri cambi, ma non togliete l'aria e lo spazio a chi ne ha diritto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.